Sono solo ricostruzioni fantasiose, così l'assessore agli eventi del Comune di Teramo, Antonio Filipponi, replica al consigliere di opposizione Antonetti, che ha puntato il dito contro l'organizzazione e i costi degli ultimi eventi, annunciando l'invio degli atti a Corte dei Conti Anac. Sotto la lente di ingrandimento ci sono i troppi soldi pubblici spesi a detta di Antonetti per appuntamenti che in alcuni casi, come il concerto di Antonello Venditti e Francesco De Gregori di questa sera, sono a pagamento e che avrebbero un ritorno economico solo per le associazioni che li organizzano. Io li chiamo ormai delle timballate del consigliere Antonetti. Vuole far in qualche modo passare una linea, vuole in qualche modo convincere i cittadini che abbiamo speso 190 mila euro per fare un evento che è questo di Venditti e De Gregori. Ommettendo il fatto che in realtà la manifestazione di Terra Monotono Indobita inizia in particolare già con la Coppa Interamia, che chiaramente aveva già un percorso amministrativo pre-elettorale, e continua adesso con due mesi di eventi, quelli di agosto, dal 3 agosto quindi al 30 di settembre, con oltre 75 manifestazioni che hanno necessità di service, audio, di allestimenti, di piani di sicurezza, di costi di comunicazione e tanti altri costi. Quindi a fronte di 75 eventi, un contributo che praticamente è di 190 mila euro, ma per 75 eventi, riusciamo in qualche modo anche attraverso la vendita di biglietti a generare un volume d'affari di oltre 500 mila euro. Questo è un bene per la città di Teramo e sicuramente non un male. Quindi una serie di bugie per dare una ricostruzione fantasiosa di quello che avviene in città. Per l'assessore Filipponi particolarmente grave il passaggio in cui il consigliere, il riferimento ad ACS Big Match sostiene che sono associazioni con le quali il Comune di Teramo ha un particolare feeling. Quando dice che non ha nulla contro queste associazioni, un po' si contraddice, perché nel comunicato più volte fa riferimento con delle frasi quanto mai opinabili anche su una affinità tra il Comune e queste associazioni che è anche grave. ACS, ricordo il consigliere Antonetti, è una società, un'impresa del terzo settore, un'impresa sociale, è un'impresa no profit, quindi non può trarre profitto dalle manifestazioni che organizza, è un'impresa che tra l'altro ha i bilanci pubblici e che deve rendicontare fino all'ultimo centesimo, il Comune prima di ricevere qualsiasi fondo.